Buongiorno ragazzi sono Salvatore e oggi voglio parlare dei miei nuovi 20 iscritti però voglio dire una cosa io a dicembre mi sono un po' demoralizzato perché non riusciva ad andare più avanti e stava sempre a 16 iscritti ragazzi io mi ero fermato a 16 iscritti era un po' triste un pochino triste poi a un certo punto sono aumentato a 20 iscritti forse perché ho messo altri tutorial tipo come si dipingono quadri ho fatto altre cose ci mi ha parlato e io comunque vi vorrei ringraziare perché io adesso vorrei fare altri nuovi video e io ti prometto che farò delle altre cose bellissime ragazzi il video del sette e mezzo di come giocare sulle carte e in due tre giorni arriva da 58 visualizzazioni per me questo mi fa onore perché ho visto che le persone ti piace molto questi giochi e cercherò di mettere altre cose di altri giochi anzi deciderò cosa fare se fare un'altra cosa più divertente oppure fare qualcosa come si pulisce il rame non lo so poi vedremo in appesso comunque vi saluto e ringrazio che venivano iscritti e spero di che voi condividiate e iscrivetevi al mio canale ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ragazzi